Ciao a tutti i toretti e benvenuti di nuovo sulla Marvel Manor Farm e come vedete sto andando con il class a svuotare la soia volendo potrei ancora caricarne però dai oggi andiamo a far trinciato quindi la soia qua non ci deve star nel cassone vogliamo vedere soltanto trinciato in questo cassone l'unica cosa è che dobbiamo ancora noleggiarci una trincia perchè i soldi sono quello che sono e quindi si dobbiamo noleggiarla perchè come scorsa volta non riusciamo a permettercela allora come rimorchi sto pensando questo con il class e poi abbiamo il crampe con il massey decisamente si lo scarichiamo e direi che vado già a vedere anzi non è il mentre, sistemo il massey lì si vabbè stavo sistemando ancora allora, sganciamo qua la seminatrice che non l'ho più sganciato l'endo mi servirebbe una zavorra però no ce l'ho in teoria in giro però non mi va di stare lì a collegare una zavorra lo attacchiamo direttamente e ce ne freghiamo ah altra cosa io caricanti non ne ho mi pare no esatto, quindi niente sennò ci poteva stare usare un caricante tanto sopra era aperto quindi ci stava guardate come sporco di boh ah di trinciato perchè hanno fatto trinciato non di mais ma di erba infatti la texture dell'erba quella che c'è nel cassone no è una figata allora direi che ci piazziamo già con questo qua da ste parti spero di aver attivato la follow me mode penso che la metterò col crossplay la trince poi andiamo allora no, devo selezionare qua il negozio e metti tre e abbiamo queste tre ok io andrei quasi quasi su questo quanto ci costa? 26.000 ma andiamo solo a mio online 18.000 allora no, lo leggia ok e ci prendiamo la sua barra da la differenza c'è 9,9 ah questa è la 6 metri piccolina vabbè io direi 120.000 cavoli non ci costa quasi di più questa che va bene noleggiata vediamo un po' lo spawn dov'è che è che è sempre allo shop e ci siamo appena noleggiati una trincia noleggiati eh non ce la siamo comprata vi ricordo tra l'altro guardate che dettagli sul volante che è in pelle bo plasticosa sembra che brutto dettaglio guardate io l'avrei lasciato anche stare di fare tra l'altro non sono più abituato a registrare sapete ho registrato lo scorso video tipo una settimana o due fa questo qui lo vedrete molto tipo due giorni dopo il precedente video della serie comunque vediamo un po' i campi che ho ho ancora il 17 eh si devo comprare un bel po' di robe ma più che altro devo portarmi parecchio avanti per far soldi perché se no boh non andiamo più avanti l'unica cosa anche che i campi costano un sacco fossero tutti i nostri sarebbe tutta un'altra cosa magari prossima serie che farò mi compro già un bel po' di campi miei di partenza e da lì lì l'idea di fare quella serie una serie molto interessante arriverà fidatevi magari ecco la polanfar quella potrei anche sospenderla perché alla fine non ho più la mappa non ho più un salvataggio è un po' un casino ok eccoci in campo iniziamo a dispiegare mentre mi faccio il percorso il percorso me l'ha generato soltanto che mi ha dato un piccolo problemino ma poca roba me lo salvo anche trincia è un po' 8 è 18 allora in teoria la faccia ah deve impostare beh richiede autista no avvia percorso adesso io mi sposto con questo in teoria lei dovrebbe basarsi sugli spostamenti miei poi vabbè magari va avanti un po' di più però ne perdiamo qualcosa ma è poca roba dai allora per fare una cosa fatta davvero bene andiamo a 10 e gli stiamo qua di fianco in teoria dovremmo stargli un po' più dietro però almeno qua dai ci stiamo e eh devo dire che la produttività è molto molto alta cioè siamo a 20.000 10.000 litri in due minuti neanche cioè no neanche 30 secondi siamo già quasi a metà carro ok che l'ho fertilizzato però solo una volta perché ho detto lo fertilizzo seminandolo volevo anche passare con l'irroratore con il t5 mi pare sì il nostro t5 soltanto che l'avevo appena asseminato e non posso più non posso più fertilizzarlo quindi ok comunque è una bella sensazione andare a trinciare da tanto tempo che non lo facevo in gioco ma anche nella realtà non è che lo faccio e no no è molto interessante in teoria ecco adesso nella realtà stanno trinciando qua da me no ancora tutto o hanno già trinciato non lo so ma qui dalle mie parti è ancora tutto sta ancora crescendo il mais quindi niente nulla di serio per il momento e mi sa tanto che sarà molto molto lunga questa trinciatura però sarà anche molto interessante volendo potrei provare a portare una live ma sarà difficilissimo perché boh la connessione che mi ritrovo faccio prima fare qualche timelapse e caricarlo boh non lo so piuttosto magari eh no per fare una roba in multiplayer bisognerebbe organizzarsi prima con un server e tutto vedrò ecco voi se caso seguite la pagina facebook perché instagram lo ahia tempieni instagram non lo sto più usando perché ho cambiato cellulare non ho più collegato l'account quindi l'account credit non c'è più sto quasi pensando vabbè le info le porto su facebook anche se molti hanno instagram vedrò se magari approfondire instagram oppure vi lascio direttamente il mio profilo privato e vabbè lì su quello privato non pubblico niente riguardante al canale lo dico già pubblico se caso robe di moto auto cose così ecco oppure dove vado fine settimana se vado in vacanza praticamente allora ah no 39.200 intanto degli 800 litri che boh accena la differenza era più bello andar giro con 40.000 litri ecco qua si vede che la lana sta iniziando ad accumularsi ok vediamo un po' trincea trincea è da riempire tutta siamo a mezzo milione scusate ma io vedo malissimo lo schermo perché c'è la finestra dietro che fa il riflesso della luce è brutta una brutta cosa allora io direi che adesso ci spostiamo un po' più fuori prendiamo il class così vedo anche quanto quanto capienza che non mi ricordo più praticamente non sto più giocando molto e non mi ricordo proprio più le capienze dei ca cioè questo qui vabbè mi ricordavo che era sui 40.000 infatti adesso che 39.200 mi sono ricordato che l'avevano diminuito leggermente rispetto al 17 mmm sapete che questo qua secondo me è sui 37.000 vorrei dire di più perché c'è plus dietro però boh secondo me è un pochettino meno perché sembra anche ahia che lag sembra un pochettino più corto ecco ecco una cosa che non riesco a capire è che mi lagga ancora il gioco a volte cioè adesso siamo 60 fps fissi devi guardarsi la farm inizia a calare un po' si ok ci può stare perché ci sono tanti mezzi però in teoria non dovrebbe cioè cavolo mi sono appena fatto un pc abbastanza cioè non il più performante però molto buono c'è una RX 580 processore MD eh l'AMD processore MD cioè dovrebbe anche essere uno dei migliori serie 7 dovrebbe essere 2700 boh adesso non ricordo bene ok vai avanti ok ah qui no stiamo tirando giù la spondina vedete se la tiro su così non va se la tiro giù va perfetto vabbè stiamo dietro qua 10.000 eh sì sui 30 tra i 30 i 30 tra i 30 30 e i 38.000 litri dovrebbe tenere perché ho visto che al 10% eravamo appena sotto i 40 c'era un 3.000 qualcosa boh vediamo vediamo ma no comunque è una figata la trinciatura allora devo ritornare a giocarci di più a farming così inizio a portare magari anche qualche video in più perché se ho visto gli scorsi anni io farming lo giocavo per conto mio e poi anche facendo video cioè facendo video sul canale e anche un sacco per conto mio fate conto che farming 17 si al 17 gli ho fatto e cavoli è strano bah gli ho fatto su una cosa come 1300 ore quasi e boh ne sono parecchie mentre qui solo 200 in un anno lì ne ho fatte già 600 e passi in un anno ok carro pieno e si torna indietro tra l'altro adesso ho fatto una screen togliendo gli ad con la modalità sviluppatore ditemi un po' se c'è qualche mod che vi permetta di di togliere gli ad senza star lì a ok qua calpestiamo un po' senza star lì a disattivare quella modalità perchè se dovessi usare una trincia o una trebbia con il canotto è un bel problema ma 34.000 litri ok c'è un bel problema perchè praticamente ti apre ti chiude il canotto ti disattiva gli ad è un problema per quello perchè dovrai scendere non è nulla di impegnativo però meglio evitare queste cose e a breve come vi sto dicendo prima delle serie andremo a fare la stessa cosa sulla serie agricola gli ecco spero di portare un video appena abbiamo un bel po' di soldi perchè devo portarmi parecchio avanti fidatevi che ce n'è di lavoro da fare i soldi si fa molto fatica a fare soprattutto se non ci sto tanto dietro la serie e niente sarebbe boh da investire sui cavalli come sto già facendo però non è su immediato il guadagno si impiegano vicino di giorni in gioco e mentre bisogna fare anche altro quindi boh un po' da vedere cosa su cosa investire di più perchè il trinciato boh volendoci può provare lo faccio fermentare nel mio sinos però il mio sinos in cima eh siamo gesti la sto gestendo male perchè ho fatto una farm in cima ed è molto lontana da raggiungere allora si cosa molto realistica quante vacche abbiamo andiamo un po' 26 e un bel po' di pecore devo andare a dargli una sistemata poi prossimamente qui mi servirebbe una lama per compattare un po' di più perchè così non stiamo compattando per niente allora adesso vediamo un po' se riesco a fare sta roba se c'è la volume attivata perfetto diamogli un 20 metri saliamo a bordo accendiamo e andiamo si vedete la vasca del cramp è molto più lunga però per il resto come altezza circa siamo lì si è molto molto più lunga il nostro mass è 4 ore vediamo un po' quante ore ha questo 4 questo 14 dov'è? chi è? non lo sapevo che con la follow me andasse in base alla velocità impostata vabbè adesso ve l'ho pompata su un botto e andiamo avanti comunque fidatevi che sto campo ci farà fare un sacco di trinciato e volendo sto quasi pensando vediamo un po' non venirmi adosso tecnologie provo a aiutare dal su varie ok abbiamo questo so già cosa farmene del resto di trinciato che lasceremo cioè lasceremo per che non ci starà in trincea penso che andrò a fare una sorta di mucchio e praticamente lo trasporteremo poi con il con il mezzo lì dalla ropa che è quello che raccoglie tutto praticamente patate, bietole no forse patate e bietole ero più ascoltate che do un'altra occhiata se non mi tampona questo qua è quello che raccoglie patate e bietole non solo bietole si quello invece raccoglie insilato cippato e non l'ho mai provato era uscito lo scorso anno come DLC ma non l'ho acquistato mi pare quello della ropa e quindi niente dobbiamo far indietreggiare un po' di più il class perchè mi sta andando sui nervi fate che continua a tamponarmi ok 30 metri va più che bene penso alla fine ecco anche un'altra cosa da valutare che sarà sarà un cassone o due di c'è un rimorchio due di trinciato buttato via per tutte le volte che sto indietro e no comunque in teoria adesso quest'anno dovrei riuscire a acquistare tutti i DLC perchè dovrei avere il season pass come avete detto perchè non lo so io il gioco non l'ho comprato io mi è stato fornito da una ditta rivenditrice di giochi praticamente di K e ringrazio sempre come è stato anche per altri giochi e quindi si ho fatto la cavolata di comprarmi il DLC Anderson perchè me lo avrebbero dato credo comunque vabbè volendo si potrebbe fare un video su quello del cotone magari boh su una mappa americana fare qualcosina comunque si dovrei riuscire a riportare farming un po' più costantemente anche se voglio magari fare una cosa come se riuscissi a portare un video tutti i giorni durante la settimana sarebbe tre video di farming e su farming simulator ovviamente tre o quattro e il resto gli altri restanti tre barra quattro ripeto quanto ne ho fatti di farming su the crew o giochi d'auto perchè boh mi divertono un sacco vedo che piacciono anche a voi questo periodo ho portato the crew e ho visto che non ha fatto i numeri di farming però un centinaio 100 200 persone in meno circa quindi vabbè non è che lo faccio soltanto per quello però the crew mi sta piacendo molto come gioco ultimamente c'è la personalizzazione poi magari più avanti usciranno altri ok siamo pieni altri titoli tipo boh need for speed così appena finisco the crew li potrei portare forza horizon anche è una bella alternativa ma ho un problema cioè boh magari me lo acquisterò più avanti costarà anche meno però non è per il prezzo è che ormai è già vecchio cioè ormai l'hanno già portato tutti sono un sacco di cose da fare per portarlo a metà riferisco finirmi the crew e poi magari me lo compro perchè boh avere due giochi da portare in contemporanea non è il massimo credo e poi vabbè oltre a farming ci sarà magari cioè se non ci sarà farming se non riesco a registrare qualcosa di farming magari potrei portarvi come si chiama eurotrack o spin tires perchè non siamo ben andati avanti oppure l'altra alternativa ecco più veloce l'altra alternativa sarebbe cattle and crops che anche lì dovevo portare qualche video in più ma non vi ho avuto tempo ho visto che vi sono piaciuti molto quelli su cattle and crops quindi arriveranno stessa cosa per moto gp non l'ho più acquistato quest'anno nemmeno formula 1 ma formula 1 anche l'anno scorso non l'ho più preso però formula 1 adesso ci starebbe molto di più perchè mi sono acquistato un volante quindi boh magari quest'anno mi comprerò formula 1 più avanti oppure boh moto gp formula 1 ci starebbe un sacco perchè col volante è figo da usare perchè ho sempre usato il joystick che si non che andasse malissimo ma neanche molto bene quindi ci sta un piccolo cambiamento e tra l'altro quasi quasi siamo arrivati in fondo abbiamo fatto 4 carri per 2 giri praticamente 30 70 mila litri fati a carro cioè ad ogni 2 carri 140 barra 150 mila litri mmm non male perchè mi lasci indietro tutte quelle dai dopo dopo devo venire io raccoglierli a mano qua da noi praticamente si usa che una volta trinciato restano giù le pannocchie e si va con l'ape nel campo a raccoglierle infatti vieni fuori con l'ape pieno di si di barbavetra di pannocchie di mais allora scarichiamo l'ultimo e direi che poi andrò avanti per conto mio è una roba che volevo guardare sti capanni sembrerebbero che hanno dentro delle trincee ma non sono utilizzabili mi sa cioè sono utilizzabili però dopo come cavoli lo tiro fuori tutto il trinciato nessuno me lo sa spiegare mi sa le trince giù al biogas lasciamo perdere forse le ho anche rimosse non lo so comunque scarichiamo quanto siamo? 600.000 ormai sì 630 40 sì poi devo dargli anche una bella compattatina e poi sono costo bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto vi invito come sempre a lasciare un bel like commentare e condividere il video ma soprattutto iscrivervi al canale se avete ancora fatto soprattutto per questo ritorno che adesso cercherò di impegnarmi soprattutto adesso che sono in vacanza farò giù video a raffica sì sperando di non stancarmi troppo perché sono in vacanza per riposarmi perché sapete è stancante fare video perché devi pensare una cosa l'altra l'altra cioè però è divertente però ti stanchi un sacco e poi adesso ho in mente di fare qualcosa di video in moto quindi boh ci sto lavorando su da parecchio tempo per trovare delle idee e poi giù tutto anche qua anche lì e che vi volevo dire vabbè ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video ciao a tutti retti e alla prossima ciao a tutti